Si può avvolgere i pescatori chiaramente della vostra manifestazione Il Presidente magari viene fatto Per zero che parlavamo giusto La solità I pescatori che hanno il nostro blusso per ricominciare Ripartire con uno spirito Che è l'iniziativa che è l'iniziativa Vi proponiamo una situazione che noi riveliamo molto interessante La cucina tradizionale Oggi ci soffermeremo di più sulla cucina Guardare e preservare questa esperienza Le risorse di cui siamo già a disposizione Lavorando in particolare su due linee La prima è rinnovare le altre Allora forse quattro Allora noi vorremmo Non solo naturalmente per le reti Ma delle attrezzature che consentono Allora questo è Magari c'era Quindi I pescatori che vengono poi messi a disposizione L'iniziativa dei privati Che potessero Già avremo un'offerta di vendita Per queste situazioni